Saranno oltre 200, tra armatori e avvocati marittimisti, banchieri, gestori di fondi di investimento, or broker e altri operatori del settore marittimo, provenienti da tutto il mondo, coloro che tra il 25 e il 26 ottobre si daranno appuntamento a Napoli per la settima edizione di Shipping and Law, l'appuntamento annuale organizzato dallo studio Legare Lauro, che si terrà quest'anno presso il complesso di Sororsola e Benincasa. Tra i partecipanti già annunciati per la due giorni di conferenza, Emanuele Grimaldi, presidente di Confitarma, Esben Poulson, Emanuele Lauro e l'ammiraglio di squadra Donato Marzano, comandante in capo della squadra navale della Marina Militaria Italiana. Ad aprire la prima giornata saranno Emanuele Grimaldi e Francesco Saverio Lauro, avvocato marittimista e organizzatore della manifestazione. Anche quest'anno, il settimo in fila, Napoli è al centro del dibattito internazionale dello shipping, vengono armatori, giuristi, broker, quest'anno anche esperti di oil and gas, anche dei flussi e i trend che riguardano i prezzi del petrolio, tutti a Napoli per discutere dei progressi, dei problemi, anche dei rischi che riguardano questo importantissimo settore, non solo per l'apporto che dà esso stesso all'economia nazionale di tanti paesi, ma soprattutto ai traffici e all'indotto. Nella due giorni Napoli diventerà il centro internazionale degli orientamenti normativi, politici ed economici del settore del trasporto marittimo, grazie ai tanti temi affrontati, tra cui la finanza marittima, le sfide nel futuro per le nuove generazioni imprenditoriali e le crociere, settore in grande crescita e influenzato dai cambiamenti strategici delle rotte. Grazie a tutti.